Una donna trascorre in menopausa oltre 30 anni, ma c'è ancora molta diffidenza verso il ricorso alla terapia ormonale sostitutiva. Ne parliamo con il dottor Stefano Lello, ai margini del convegno sulla salute della donna, svoltosi a Roma e promosso da Organon Italia, che del benessere femminile ha fatto la sua mission. Intanto ci spiega a cosa serve la terapia ormonale sostitutiva? La terapia ormonale sostitutiva serve per le signore che sono in menopausa e serve a far star meglio le donne riducendo le vampate, le sudorazioni, i disturbi del sonno e prevenendo tutta una serie di condizioni come la secchezza vaginale, l'osteoporosi, la secchezza cutanea, l'atropia, l'invecchiamento cutaneo per esempio, oltre ad avere effetti positivi sul tono dell'umore. Solo il 7% delle donne italiane ricorre alla terapia ormonale sostitutiva, spesso è lo stesso ginecologo a sconsigliarla, in quali casi va effettivamente evitata? I casi sono veramente pochi, sono il fatto di aver avuto un cancro della mammella, il fatto di aver avuto una trombosi o essere ad alto rischio di trombosi, nel cui caso si potrebbe utilizzare la via transdermica ma questo di fatto poi non accade, quindi resta fondamentalmente una controindicazione, malattie epatiche importanti e poi sono poche altre condizioni, quindi sono veramente pochi i casi in cui non si può utilizzare la terapia ormonale sostitutiva. E come mai quindi solo il 7% delle donne vi fa ricorso? Ma questo dipende secondo me da un fatto culturale sia dal punto di vista dei medici sia dal punto di vista delle donne. La menopausa viene ancora vista oggi come un evento ineluttabile che fa parte del destino femminile, nonostante essa possa comportare dei problemi sia nel breve termine che nel lungo termine. In realtà la terapia ormonale sostitutiva dovrebbe essere vista come una terapia preventiva per tutta una serie di condizioni con un grosso miglioramento della qualità della vita delle donne. Ecco, invece quando è che è proprio consigliabile? È consigliabile, le indicazioni della terapia ormonale sostitutiva sono la sintomatologia vasomotoria, la secchezza o atrofia vaginale, i disturbi dell'umore, i disturbi del sonno, la prevenzione dell'osteoporosi. Sono tutte condizioni in cui la terapia ormonale sostitutiva può dare un aiuto validissimo alle nostre signore che sono in menopausa.